ciao ragazzi questo è il mio telefono un samsung e vi faccio vedere tanto ormai l'avete già visto la mia cover di goldrake trovata su aliexpress bellissima mi piace questo tipo di cover adesso voglio aspettare voglio un po vedere ho trovato una cover di lady oscar sto per prenderla poi allora ho visto le cover dei cavalieri dello zodiaco allora per cercare questo tipo di cover allora per quanto riguarda i cavalieri dello zodiaco mettete il titolo originale saint seiya e poi il modello del telefonino in questo caso il mio samsung a 50 quindi saint seiya a 50 fate l'altra ricerca con saint seiya samsung a 50 ok e questo ovviamente per l'iphone trovate più cover però dipende sempre dal modello la stessa cosa vale pure per il galaxy e samsung galaxy che altro dire cercavo pure qualche qualche cover del walkie race devo vedere bene perché se diciamo se la trovo la prendo ho trovato le cover di sailor moon sia il sailor moon normale sia degli anni 80 sia sailor moon crystal anche se io lo dico e lo ripeto apertamente preferisco di più il sailor moon normale cioè la prima versione quella degli anni 80 che sailor moon crystal diciamo per me non è credibile che altro dire beh quasi quasi dovrei farvi un video con tutte diciamo le le cover così magari vi fate un'idea di quello che c'è su aliex che veramente c'è il mondo intero io adesso ho trovato ormai non mi arriva più per natale anche perché l'ho trovata oggi diciamo a 5 giorni prima di 5 giorni prima di natale quindi il 20 ho trovato che diciamo si attacca qui mi ricordo se qui o qui adesso devo controllare le luci per natale che si attaccano al telefono sono lunghe per lo meno un metro e sono 5 6 lucette quel c'è quella verde con la gialla quella rossa cioè intanto parlo così e poi sotto che cadono per terra le luci un metro per lo meno fa le 20 centimetri vabbè ho visto un metro poi vediamo magari sono io che mi sbaglio però l'ho visto che si attaccano al cellulare allora il mio cellulare può diventare pure albero di natale cosa facciamo goldrake albero di natale poi ho trovato su aliexpress pure i braccialetti che in pratica si attaccano poi quando lo aprite in pratica che cosa c'è è il e il cavo per caricare il telefono allora c'è quello per il samsung a 50 che è il tipo c c'è micro sb e c'è quello per l'iphone quindi vi ho detto questo vi ho detto tutto e visto che si parla di no questo vi faccio un altro video così vi faccio vedere meglio la roba e con questo è tutto ciao alla prossima